Se un tralcio da frutto. 12 luglio 1975. Figli miei, sia pace a voi e grazia. Ecco, sono qui con voi. Sono la mamma vostra, desiderosa del vostro bene spirituale e materiale più di quanto lo sia la più buona delle mamme. Desidero comunicarvi la pienezza del mio amore, per potervi rendere quali veramente vi vuole Dio. Il primo passo l'ho fatto io verso di voi chiamandovi qui, ora vi do l'aiuto necessario per cambiare e migliorare certe situazioni. Se voi collaborerete con me, la vostra vita sarà come trasformata, e la gioia che riempie il cuore degli Apostoli nella discesa dello Spirito Santo sarà pure vostra. Ha detto il mio Gesù, io sono la vite e voi i tralci. Se un tralcio non dà frutto, viene tagliato e buttato via. Se un tralcio dà frutto, viene potato perché possa dare maggior frutto. Voi dovete meditare queste parole e tirarne la conclusione. Avviene tante volte nella vita dell'uomo che le contrarietà e il dolore, sotto le più svariate forme, lo vendiano a colpire. Sono come la potatura. Dio si serve di tutto perché la vostra vita sia rigogliosa e fruttuosa, per poter rendervi partecipi della sua gloria eterna e darvi una ricompensa infinita. Non avete che da stare uniti a Gesù e fare incondizionatamente la sua volontà, che è il meglio per voi. Figli, siete qui come uccelli che aspettano di spiccare il volo. Un volo eterno nell'alto dei cieli spiccherete un giorno, ma intanto dovete sapere levarvi al di sopra delle miserie umane. E il saper additare ai vostri compagni di lavoro che il vivere la propria fede e guardare alla vita dell'aldilà, non impedisce di prendere viva parte a tutto ciò che turba l'umanità. La vostra carità, fatta non di parole ma di fatti, deve essere la prova migliore della vostra fede. Figli, mi aspetto molto da voi. Diventerete apostoli. Benedico i papà e i giovani. Benedico le vostre mani e il vostro lavoro. Le vostre mani perché congiunte nella preghiera, e il lavoro perché non vi manchi mai e sia mezzo di santità. Vi aspetto ancora e teneramente vi abbraccio.